Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. G20, l'Italia in prima linea, incontro tra Melonix e Jinping. L'importanza della vitamina D per gli anziani. La miafarma.it, l'e-commerce a misura di senior. Jeff Bezos donerà 124 miliardi in beneficenza. Un successo, così il presidente Giorgia Meloni ha definito i lavori del G20. Bene l'intesa sul grano che ha trovato il sostegno di tutti i leader, Russia compresa. A margine del G20 la Meloni ha poi incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Rafforzare i rapporti economici tra Italia e Cina è una delle proposte avanzate dalla presidente. In seguito, discutendo della guerra in Ucraina, hanno riconosciuto entrambi la necessità di un'iniziativa diplomatica per evitare un'escalation. La vitamina D è un micronutriente fondamentale per il nostro sistema immunitario, per le ossa e per i muscoli, ma assumerne a sofficienza è spesso difficile. Ce ne parla Silvia Migliaccio, presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione. La vitamina D che noi conosciamo bene perché aiuta a fissare il calcio nelle ossa, aiuta la mineralizzazione delle ossa, ma svolge un ruolo importante anche nel mantenimento del benessere dell'organismo in generale, quindi della funzione per esempio del sistema immunitario, cioè nella protezione del nostro organismo contro le infezioni, nel mantenimento dell'apparato muscolare e quindi ecco qui che la vitamina D svolge un ruolo importantissimo. Nel momento in cui con l'alimentazione non riusciamo ad introdurre una quantità adeguata di tutti i nutrienti e in questo caso di vitamina D, dobbiamo ricorrere la supplementazione, appunto all'integrazione e quindi dobbiamo valutare la quantità, la presenza di livelli ottimali di vitamina D nel caso in cui non fossero ottimali, dobbiamo appunto in maniera individuale, personalizzata, aggiustare i livelli facendo sì che il soggetto nel caso in cui l'alimentazione non fosse sufficiente, possa introdurre una quantità adeguata di vitamina D. Sulla miafarma.it si possono trovare prodotti a prezzi calmerati con un'ulteriore scontistica dedicata ai senior. Sentiamo. I nostri prodotti hanno praticamente quasi tutti già uno sconto di partenza, però nella sezione dedicata ai senior, quindi nella sezione specifica, con l'utilizzo di un codice, un codice che è stato generato ed è univoco in pratica, inserito nel momento nella fase di checkout. Che cosa significa la fase di checkout? Quando l'utente ha messo nel carrello i prodotti desiderati, procede all'acquisto, in questo momento si deve inserire il codice promozionale e solo con l'inserimento di quel codice lo sconto è ulteriore, cioè quindi c'è lo sconto dedicato. Questo codice l'utente lo può richiedere ai loro referenti, ai centri che frequentano, insomma quelli che sono i referenti della loro associazione che gli indicheranno il codice dedicato da poter poi utilizzare. Anche qui per qualsiasi problema di utilizzo del codice, per qualsiasi difficoltà, chiamando il 366-647-7397 c'è sempre qualcuno disposto aiutare. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, seconda persona più ricca al mondo, devolverà gran parte della sua ricchezza per sostenere le cause che più gli stanno a cuore. Lo fa sapere lui stesso durante un'intervista con la moglie filantropa alla CNN. Il magnate sta infatti trovando un modo per affrontare i problemi umanitari e il cambiamento climatico, ammettendo che la filantropia non è così semplice come pensava. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo un pronto senior salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero un esame diagnostico ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 0662 274404, segno l'Italia federazione prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, Youtube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.